Avete già pensato al pranzo di Natale? Perché il governo sta invece cucinando una bella sorpresina da parte sua e dei soliti lobbisti. Dal 14 dicembre non ci sarà più l'obbligo di specificare in etichetta lo stabilimento di produzione per i prodotti alimentari. Semplicemente è il solito favore fatto agli amici degli amici che darà il via alle solite truffe, imbroglie e contraffazioni che ci impediranno di sapere cosa mangiamo davvero. Per il Movimento 5 Stelle è fondamentale che i cittadini sappiano quello che mangiano. Chi produce quella scatoletta? Quanti chilometri percorre prima di arrivare sul nostro piatto? Per questo motivo ci siamo già posti in ogni modo con interrogazioni, risoluzioni, interpellanze, lettere rivolte ai ministri ma abbiamo sempre trovato orecchie sorde. Allora abbiamo deciso noi di fare un regalo di Natale a tutti gli italiani con una proposta di legge semplice semplice in materia di etichettatura. L'Italia mantiene l'obbligo di citare in etichetta lo stabilimento di produzione e confezionamento. Al governo basta fare un semplice copia in colla della nostra proposta di legge ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti voi. Se condividete questa battaglia, condividete questo video e mandate una mail al ministro dell'agricoltura Martina e al ministro dello sviluppo economico Guidi per costringerli ad ascoltarci e a muoversi. Passate parola! 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 Grazie a tutti